Senta, dis, cos'è? No, no, cos'è? Ok, fermo, no, no, ok. Possiamo cominciare questo video. Sono in questo prato, con queste mucche, con questo cameraman improvvisato. Perché avevo bisogno di un luogo speciale per comunicarvi questo evento incredibile. Abbiamo raggiunto i mille iscritti. Questo tramonto rappresenta l'alba dei mille. E quale luogo migliore se non questo per comunicarvelo? Vai! Ok. È il primo obiettivo palpabile da un punto di vista di iniziare ad avere dei risultati concreti a livello di iscritti su YouTube. Che, come ben sappiamo, è un dato fondamentale per poter crescere. Senza mai dimenticarmi che ogni numero rappresenta una persona. Per me questa cosa è fondamentale. Già l'ho detto in un altro video, ma ci ritengo a ribadirlo. Che molto spesso vediamo numeri che salgono, numeri che salgono, numeri che salgono. Invece lui scende. Non so cosa stia facendo. Però va bene. Vediamo numeri che salgono, numeri che salgono, numeri che salgono. E poi ci dimentichiamo che dentro di quei numeri ci sono le persone. Non voglio dimenticarmene, assolutamente. E non lo farò mai. Ogni singolo uno che c'è su questo canale è una persona che sta vedendo questo video e per me ha un valore immenso. Vi ricordo che lo scopo del mio canale è spingerci un po' oltre e seguire l'istinto da un punto di vista di curiosità. E soprattutto, adesso come adesso, che piano piano stanno iniziando ad esserci sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più delle intelligenze artificiali che, come ho già detto, dal mio punto di vista non vanno assolutamente sdoganate. Però allo stesso tempo, da qui ai prossimi anni, sono convinto che se la curiosità già non è una cosa scontata, non lo sarà nemmeno la realtà. Ci sono influencer che non esistono, cominciano ad esserci video generati completamente da zero, che sembrano realizzati con macchine fotografiche, con macchine video. Quindi quello che vorrei portare qui è vita reale e curiosità. Per molti potrebbero essere cose scontate, ma cominciano ad non esserlo più. Attualmente sul canale c'è il progetto Snake che sta continuando ad andare avanti, sta salendo sempre di più, sta arrivando sempre a più persone e questa cosa è bellissima. Però sappiate che questo è solo l'inizio di un qualcosa di ancora, ancora più concreto. In questo momento state vedendo me che mi sto orientando, che sto cercando di capire al meglio come realizzare i contenuti, come elaborare le idee, come fare tutta una serie di cose. Ma tutto col tempo vedrete che prenderà sempre più sostanza. Anticipare roba adesso è troppo presto. L'unico indizio che vi posso dare è che se guardate il progetto Snake ci sono dei video un po' particolari, che hanno a che fare con le interazioni con le persone in un certo modo. Bene, prendetelo come indizio. Detto ciò, da questa stazione ferroviaria che in dieci ore di notte porta a Bangkok e con questo sole incredibile, con le mie mucche alle spalle, con questa montagna che è il simbolo di Patta Lung, questa città in culo al mondo dove mi trovo adesso. Vi ringrazio nuovamente, vi mando un besito e ci vediamo nei prossimi episodi. Mucche che pascolano. Contadini. Non vuoi? Così. Gli stavo un attimo spiegato come fare, ma gli stanno entrando le mucche in una casa che non è sua, quindi stavo per fare un danno. Stavo spostando. Ah ok, possiamo riprovarci. Quell'altra, quell'altra. Si stava dimenticando una mucca. Ma che roba. Ok. Mei Chong. Perfetto. Oggi sarà il nostro cameraman. Dovrei fare una nuova rubrica. Imparare a fare cameraman a persone impossibili. Sto cercando di... Ma se ne vanno. Mi stava spiegando che alle sei di pomeriggio vengono qui. Ce le deve chiudere nel recinto. Sono quasi le sei. Vai, vai.